Nessuna sostanziale modifica sul piano della ridistribuzione delle deleghe dopo il rimpasto operato ieri dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. I due nuovi assessori, Giovanni Di Caro e Davide Caico, andranno a ricoprire i ruoli svolti rispettivamente da Emanuele Macaluso e Giussi Zabbara. Di Caro infatti si occuperà di sport, turismo, spettacolo, assumendo però la delega all'agricoltura che era del sindaco Ruvolo. Per lui anche la polizia municipale, la viabilità rurale e l'immigrazione nell'ottica di una ridistribuzione che alleggerisce il carico dei tre assessori riconfermati. Leonardo Gello che mantiene le deleghe all'istruzione, cultura, salute e decoro urbano. Maria Francesca Ragusa che continuerà ad occuparsi di bilancio, tributi, pari opportunità, attività produttive e politiche giovanili. E Giuseppe Tramuta che oltre alla carica di vice sindaco mantiene i lavori pubblici, l'urbanistica, i servizi cimiteriali, viabilità e rifiuti. A Davide Caico, da ieri nuovo assessore dell'aggiunta a Ruvolo ma con un'analoga esperienza fatta con l'allora sindaco Carmelo Paccio, sono andate le deleghe che erano di Giussi Zabbara. Si occuperà di politiche sociali, terza età, servizi al cittadino, volontariato, politiche comunitarie del lavoro. Rimpasto è andato in archivio ma le polemiche politiche non cessano e oggi l'opposizione consigliare accusa il sindaco di avere salvato la fascia ma di essere di fatto stato commissariato dalle due forze politiche che lo sostengono. Fratelli d'Italia scrivono i consiglieri di minoranza ottenuto un posto con il rappresentante cittadino del partito e consigliere comunale Giovanni Di Caro mentre diventerà bellissima a fatto il pieno riconfermando i propri rappresentanti e rafforzando la compagine con l'ingresso di Davide Caico. Tutto come da copione, aggiungono, sono stati estromessi Macalusso e Zabbara che non avevano referenti politici capaci di imporre la loro riconferma e si è azzerata un'aggiunta solo per soddisfare le richesse dei due partiti. L'opposizione non manca infine di punzecchiare il sindaco Ruvolo su un altro aspetto. Adesso che avrà la collaborazione dei due assessori Di Caro e Caico che hanno condiviso e realizzato in vari periodi e in diversi ruoli il progetto di Carmelo Pace come potrà continuare? Chiedono a giustificare le proprie inadempienze debitandole al passato.